I finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo carico di un dipendente pubblico in servizio presso un poliambulatorio medico in un comune della provincia di Cosenza. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Castrovillari sono state condotte dalle fiamme gialle della tenenza di Monte Giordano ed hanno riguardato ripetute condotte illecite di assenteismo dal servizio perpetrate dal predetto pubblico dipendente. I finanzieri hanno ricostruito numerosi e circostanziati episodi di assenteismo, di illegittimo e ingiustificato allontanamento dal luogo di lavoro e di falsa attestazione per la presenza in servizio da parte del pubblico dipendente per un totale di 125 ore di servizio di fatto mai effettuate. Contravvenendo ai propri doveri, l'indagato era solito allontanarsi dall'ufficio senza alcuna valida ragione lavorativa per esigenze di carattere personale come ad esempio recarsi presso un vicino centro commerciale, il proprio istituto di credito o per rientrare deliberatamente presso la propria abitazione nel corso dell'orario di servizio, sovente permanendovi alcune ore talvolta omettendo l'intero turno pomeridiano di rientro. All'esito dell'attività investigativa il CIP ha disposto il sequestro delle somme indebitamente percepite dal dipendente principale indagato a titolo di retribuzione per le prestazioni lavorative non effettivamente svolte, mentre altri sei soggetti a vario titolo protagonisti delle condotte sopradescritte risultavano allo Stato indagati a piede libero. I delitti contestati loro sono quelli di truffa aggravata ai danni dello Stato e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio, reato che comporta tra l'altro il licenziamento per giusta causa per i responsabili delle condotte assenteistiche.